Va bene, tornati siamo tornati, le valigie le abbiamo disfatte, adesso non mi resta che fare delle belle lavatrici, poi dopo stendere, ma a proposito chissà che tempo ci sarà per stendere, guardiamoci le previsioni. Previsioni per domenica 13 agosto, al nord è in Lombardia, al mattino tempo stabile, ma con molte nuvi su tutte le regioni alternate ad ampie scarite. Al pomeriggio ancora condizioni di generale stabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Sul resto d'Italia al mattino soleggiato e stabile, al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile e sole prevalente su tutte le regioni. Temperature minime e stazionarie massime in rialzo. Bene, lavatrici fatte, adesso non ci resta che stendere tutto da questo ciarpame, però fresco e profumato e noi ci rivediamo prossimamente e ricordatevi che su Cron TV splende sempre il sole, proprio come sulla mia roba stesa e state sereni.